E ora parliamo di obsolescenza programmata e sostenibilità. Possiamo dire che in senso ampio è quel rapporto che abbiamo con gli oggetti tecnologici e le varie evoluzioni successive che ci spinge a gettar via quegli strumenti che non sono più efficienti, invece per creare le basi di una società davvero sostenibile e nel rispetto dell'ambiente dovremmo tornare al riutilizzo e alle riparazioni. Ne parliamo con Sergio Rossi, fisico, divulgatore scientifico e scrittore. Sergio, bentornato. Ciao Gloria, grazie, l'invito. Perché, Sergio, è necessario non gettare via i nostri cellulari o gli elettrodomestici? Perché i nostri cellulari o gli elettrodomestici sono molto preziosi, in quanto sono fatti con tantissimi minerali che bisogna andare a prendere in giro per il mondo. Pensa che per fare un iPhone o uno smartphone come quelli che usiamo tutti i giorni c'è bisogno di minerali che vengono da 47 posti diversi e devono essere poi assemblati in aziende molto tecnologiche, perché sono un prodigio della tecnologia, e poi per poi essere assemblati e ricostruiti. Quando noi li smaltiamo, tutti questi materiali che li compongono, magari perché si è rotto lo schermo, si è rotta la telecamera, si è rotta solamente una parte di questo, ma tutto il resto è posto, va perduto. Sono i cosiddetti RAE, cioè i rifiuti tecnologici elettrodomestici piccoli, insomma, di casa, che sono invece molto preziosi, perché da questi si potrebbe ricavare tantissimi materiali invece di andarli a scavare, praticamente. Cioè li ricaviamo da lì e non li andiamo a scavare. È l'idea di economia circolare che sta ritornando con forza, con una forza benefica negli ultimi anni, proprio per limitare il consumo di suolo e di risorse del nostro pianeta, per limitare lo spreco, non solo per il cibo, ma anche per la tecnologia. Un esempio sono le lavatrici, per esempio, non solo i cellulari, che abbiamo tutti a casa. Immagino anche tu, Gloria. Assolutamente sì, certamente. Che quando si rompe, si rompe un pezzetto e adesso, siccome sono anche questi dei prodigi della tecnologia, tutte elettroniche per consumare meno, calcolare il carico, l'acqua, e se si rompe una scheda, tutta la lavatrice che è nuova, che potrebbe durare ormai 20 anni, 30 anni, perché è fatta veramente molto bene, dobbiamo cambiarla. Adesso sono venuti fuori, ad esempio, a Torino, c'è questa ditta di lavatrici che si chiamava RIBER, che poi ha fatto una delle più grosse assistenze sul territorio nazionale, Astelab, che recupera frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, in teoria rotte, le rigenera, come sta accadendo con i cellulari, che stanno avendo una nuova vita anche in rete, e poi le rivende. Chiaramente sono lavatrici rigenerate, che magari possono durare 20 anni, 10, però costano molto meno, permettono di risparmiare non solo a chi compra, ma anche di risparmiare sull'ambiente, sul territorio, pensa solo allo smaltimento dei rifiuti di questi oggetti, quanto può essere ingombrante. Assolutamente. Diciamo che per fortuna sembra tornare di moda il rammendo per quanto riguarda i vestiti, e anche il riutilizzo per quanto riguarda questi oggetti. Questo, se ci facciamo caso, sta tornando molto anche nelle generazioni più giovani, che hanno scoperto nella pratica manuale, si trovano molto in giro dell'uncinetto, del cucito, ma anche di fare la maglia e ferri, proprio un bisogno di riuscire a, non so, un'alternativa ai social, alla rete, cioè che poi diventano social, perché poi si ritrovano, parlano, chiacchierano, e intanto impiegano il proprio corpo per creare qualcos'altro, che ha una sua solidità. Oltre che per i vestiti, anche perché noi abbiamo dei vestiti anche qui novissimi, che a volte basta un taglio, un cucito, una rimessa a posto e durano tantissimo. Anche perché la moda è una delle industrie più inquinanti che c'è al mondo, che stanno molto lavorando nella moda per cercare di limitare l'inquinamento, però è una delle industrie che più consuma acqua. Smaltire vestiario è anche quello, insomma, ci vuole tanto tempo, vero Sergio? Sì, è molto preoccupante, pensa che nel famoso deserto di Atacama, in Peru, dove ci sono deserti di sale, sopra le ande, dove c'è anche un radiotelescopio, era diventata una discarica di vestiti, proprio perché non sapevano dove buttarli, che arrivano da tutto il mondo. E questi vestiti anche in acqua ci mettono tantissimo, non solo, figuriamoci nel deserto, ma si cadono in acqua negli oceani, ci mettono decine di anni per disgregarsi, se poi si disgregano, ecco. Oltre che c'è tutta l'acqua che consumano, cioè per fare un paio di jeans scoloriti, si scoloriscono con varie sostanze, ma la base è sempre l'acqua. Le concerie, per dire, ecco, in Toscana, credo che le concerie erano all'ordine del giorno una volta. Assolutamente. Quindi, diciamo, rammendo, riutilizzo, come si diceva, per avere vantaggi sicuramente economici, ma soprattutto ambientali, Sergio. Esatto, ma tutti e due sono collegati, perché un'economia, la cosiddetta green economy, quella che chiamano così, è un enorme vantaggio economico per chi la sta attuando, nel senso che la transizione ecologica è vero che è complessa, però può portare a nuovi posti di lavoro, cioè alla distruzione, cioè alla chiusura di vecchi posti di lavoro, ma alla creazione di molti altri posti di lavoro, che possono essere molto più diurevoli degli altri, perché noi non è che dobbiamo, diciamo, smettere di usare quello che abbiamo, dobbiamo, sicuramente, usarlo meglio, con altri cicli di produzione. Ecco, forse dobbiamo inventarci altri cicli di produzione, riciclo, riutilizzo, tornare ad aggiustare le cose, non a buttarle via, a recuperare quello che si può recuperare. Senza dubbio. Come facciamo? Senza dubbio. Per esempio, se posso dire, in Italia siamo tra i primi in Europa per le raccolte differenziate. Eh sì. Cioè non sembra, ma siamo molto bravi da quel punto di vista. Esatto, esatto. Facciamoci anche un complimento quando ce lo possiamo fare. Grazie a Sergio Rossi di essere stato con noi oggi. Ciao Sergio. Grazie a voi. Ciao Gloria. Una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo. Grazie. Grazie.